ultimi preparativi siamo pronti quasi ora è sempre vivente a Piemonte tutte le cinque regole da osservare mascherina distanza non entrare nelle casette non toccare oggetti esposti non consumare cibi e vivante percorso dissestato è vietato solo stare su tenere per mano i bambini ci siamo siamo pronti osserviamo dall'alto ed è bellissimo caratteristico è davvero un percorso presepiale tutto è pronto ragazzi e voi chi siete figuranti che cosa interpretate buonasera buonasera siamo i briganti davvero tanta tanta paura i briganti adesso prendiamo un attimo a casa a prenderci qualche altra cosa perché fa freddo fa freddo fa freddo ciao a dopo tutti pronti stiamo raggiungendo un altro pezzo del presepe molto suggestivo tra queste montagne a parte le case che già ci sono eccoci qua buonasera salve siamo pronti qui che cosa ah vi dovete solo vestire da che cosa vi vestite da pastore da pastore belli ma questi sono pezzi veri appesi bellissime è la famosa chianca ecco che ci cacciano via stiamo intralciando la preparazione ma no ma io devo passare davanti a questo chianchiere ma sono tutti pezzi veri bellissimi ragazzi di che pezzi che pezzi sono illustrate che cosa avete messo in esposizione fegato di una mucca fegato di una mucca e quei dentacci e che appartengono questo invece del maiale questa è una testa di maiale ah una testa di maiale ma poi la cucina ah questo è ancora tutto tutto pronto con limone in bocca certo ma verranno anche cucinati avete questa idea avete questa idea non bisogno... non bisogna non bisogna